signora per risparmiare non deve più rinunciare alla morbidezza di vernell ok oggi c'è vernellone quattro litri di autentico vernell uno due e tre il quarto il quarto è gratis perché lei ne paga solo tre quanto le costa un bucato meno di cento lire non rinunci alla morbidezza di vernell oggi c'è vernellone risparmio con morbidezza imbattibile ok